Benvenuto nel canale ufficiale della Criptoverso, canale dedicato allo studio dei mercati finanziari con topic specifico sulle criptovalute. All'interno di questa video premiere voglio presentarti il nostro nuovissimo sito internet e tutti i servizi relativi al trading che offriamo alla nostra clientela, servizi nati proprio dalle vostre richieste in anni di onorata carriera. Io sono Luigi Garone, analista tecnico finanziario e trader indipendente da oltre cinque anni con certificazione SIAT ed IFTA di primo livello, fondatore della Criptoverso e fondatore di una delle community di trader in criptovalute più profittevoli d'Italia, i Crypto Warrior. Dunque senza alcun indugio andiamo sul nostro sito internet. Digitando il nostro indirizzo www.cryptoverso.xyz approderai sulla nostra home page dove nella parte alta c'è il bottoncino per contattarci. Scorrendo lungo la pagina c'è la nostra bio ovvero chi siamo ma anche cosa facciamo. Continuando troverai il bridge per accedere alla nostra community gratuita su Discord. Inoltre troverai tutti i nostri prodotti, prodotti che si dividono in formazione, trading e servizi. Nella parte bassa dell'home page troverai alcuni casi di successo dei nostri studenti, casi certificati a mezzo Trustpilot. Dunque cominciamo ad approfondire tutti i nostri servizi partendo dalla formazione. Formazione che si divide in videocorsi e nella masterclass. Cominciamo dai videocorsi. I videocorsi sono due. Il primo di analisi tecnica che è utile per darti le basi per cominciare a fare trading in modo profittevole ma anche adatto a tutti coloro che vogliono prendere la certificazione di analista tecnico finanziario presso la SIET piuttosto che presso l'IFTA, la federazione internazionale degli analisti tecnici. Poi c'è il videocorso di analisi ciclica, videocorso adatto a tutti coloro che hanno solide fondamenta di analisi tecnica ma che all'interno delle proprie analisi vogliono introdurre il fattore tempo. Ricordo che i videocorsi sono a sconto fino al primo maggio del 2023 quindi approfittatene. Andiamo adesso sulla masterclass. La masterclass che è il nostro prodotto di punta nella formazione adatto a tutti coloro che vogliono diventare investitori ma anche trader di successo all'interno del mercato delle criptovalute ma è valido per tutti gli altri mercati perché le nostre logiche sono compatibili su tutti i mercati. All'interno del percorso formativo masterclass troverai il videocorso completo di analisi tecnica, il videocorso completo di analisi ciclica, inoltre troverai l'approfondimento sui volumi, volumi molto molto importanti e che vengono utilizzati dagli smart money per generare profitto costantemente sui mercati finanziari. Passiamo ai servizi dedicati al trading cominciando con Journal Pro. Journal Pro è la membership della criptoverso relativa al trading speculativo di breve brevissimo periodo con focus su quelle altcoin che stanno sovra performando bitcoin. È adatto a chi ha capitali modesti da dedicare al trading per tutti coloro che vogliono un'entrata mensile extra e per chi ha poco tempo da dedicare allo studio e alla pratica a patto che abbiano la prontezza di replicare l'ordine quando gli viene notificato. Poi passiamo a ciclicamente bitcoin che è la nostra membership dedicata esclusivamente al bitcoin con due dirette settimanali, spunti operativi ed idee di trading su ciclicità di mercato più ampie per un'operatività più distesa. Traderemo i cicli settimanali e i cicli mensili di bitcoin. È adatto a chi ha capitali medio alti da dedicare e per chi non vuole passare giornate intere a fare analisi. Non è assolutamente adatto per gli investitori di lungo periodo perché per gli investitori di lungo periodo c'è confidential ovvero il nostro servizio premium di ricerca e allocazione del portafoglio con opportunità di investimento, rendite fisse, aging e tanto tanto altro. È stato ideato per chi possiede capitali più elevati da investire ed allocare in investimenti alternativi come le cripto, adatto per tutti coloro che hanno orizzonti di investimento di lungo periodo, per chi già possiede un portafoglio di investimento e vuole diversificare allocando una parte dei fondi in criptovalute ottenendo un miglior rapporto rischio rendimento. È adatto anche per chi ha una buona propensione al rischio e vuole un portafoglio investito al 100% con lo scopo di sovraperformare il benchmark di riferimento che nel nostro caso sarà il Coindesk Bitcoin Price Index. Nell'abbonamento è anche incluso l'accesso al canale Discord riservato, l'accesso al portafoglio modello Blue Chip che comprende decine e decine di asset con caratteristiche value, l'accesso al report periodici, live meeting e tanto tanto altro. Infine concludiamo con il nostro servizio di Espatrio. Espatrio è digital nomad lifestyle con riduzione legale della tassazione e asset protection. Ti forniremo tutte le skills necessarie per condurre la vita che hai sempre sognato. È adatto a chi ha guadagnato grosse somme col trading e vuole fare cash out senza il rischio di dimezzare il capitale per colpa della tassazione. È adatto non solo ai trader ma a tutti i professionisti del settore digitale. Pianificheremo insieme la soluzione ideale in base anche alle tue esigenze costruendo una soluzione su misura. Ti aiuteremo nell'Espatrio, nell'ottenimento della residenza estera, nel trasferimento della residenza fiscale e tante altre cose. Concludendo puoi contattarci tramite il nostro sito internet sulla home page cliccando il tastino contattaci e ricorda se farai la scelta giusta ci vedremo dall'altra parte.